Ora, voi mi conoscete, sapete che io sono un tipo pacato, calmo, non mi esalto per un amichevole, non mi esalto per un amichevole con il verde e il brema, con il verde e il brema. Sono solo amichevoli, ragazzi, state calmi, state calmi, bisogna stare calmi. Almeno io, guardatemi, vedete uno entusiasta? No, no? Invece no, ragazzi, invece no, invece no, invece no, che cazzo me ne prega di amichevole? Abbiamo vinto col verde e il brema, col verde e il brema, col verde e il brema, che poi, a parte quello, il risultato a me non mi interessava. Però ragazzi, Christovic 10 milioni, 10 milioni Christovic, non vuole fare i gesti brutti, non vuole fare i gesti brutti, ma se vanno a vendere Christovic a 10 milioni, mi metto fuori allo stadio incatenato e non faccio entrare nessuno, nessuno faccio entrare. Christovic vale tantissimo, vale tantissimo e ce lo dobbiamo tenere, altrimenti se lo dobbiamo dare lo diamo per una cifra pazzesca, altro che 10 milioni. Quale 10 milioni? Per 10 milioni diamo le scarpe di Christovic. Ragazzi, è una potenza, è una potenza. Quello, se avessi giocato anche il secondo tempo, ne avrebbero fatte due altre. Tranquilli, tranquilli, a parte che sta in formissima, lasciamo perdere i sei gol dell'altro giorno, che erano scappati di casa, ma oggi con il verde e brema ne ha fatti due, se ne ha mangiati due, vabbè, poi non ha fatto un passaggio un po' egoista, diciamo, e ha voluto fare tutto da solo. Però quello è il vero attaccante, ragazzi, quello è il vero attaccante. A me questo giocatore, questo calciatore, mi fa esaltare, mi fa esaltare, mi fa esaltare, è fortissimo, ma quali 10 milioni? Quali 10 milioni? Io spero che Corbino, anzi, spero che quello che abbiamo letto tutti, no? Che la società dà il valore a Christovic, chi vuole Christovic 10 milioni. Ma quali 10 milioni? Quali 10 milioni? Mo' impazzisco, mo' impazzisco. Comunque, ragazzi, bellissimo. Gotti oggi ci ha dato, diciamo, una, cioè, lui oggi ha giocato con le due punte, no con una punta, se avete, l'ha detto anche, non ho anche scritto, l'hanno detto, erano due le punte, quindi Gotti vuole giocare con due punte, no con una punta, perché io avevo capito che era quest'anno, si ricominciava col 4-3-3, invece oggi abbiamo fatto 4-4-2 e 4-4-2. Ragazzi, è Gaspar? Gaspar? No, vabbè, ma ditemi Gaspar? Cioè, ma Gaspar è un mostro, è un mostro, c'ha un fisico pazzesco, di fisico proprio, col fisico si appoggia e li porta fuori gli avversari, troppo forte. Mi sono esaltato, mi sono esaltato, mi sono esaltato, mi sono esaltato. Ragazzi, l'unica cosa brutta di tutto ciò era il mio pensiero, che grazie a Dio c'è stato Christovic che ogni tanto mi faceva dimenticare, ma Blen, Blen, davvero dobbiamo dare via Blen. Cioè, Blen è stato quello che negli ultimi tre anni, Serie B, Serie A e Serie A, è stato, diciamo, l'anello di congiunzione, no? Ricordatevi che ogni anno Blen partiva in panchina, ogni anno Blen si è preso il posto e non l'ha lasciato più, e grazie a Blen avevamo equilibrio. Ora, vedere un Palermo dare a Blen un milione di euro, il doppio di quanto Blen prende a Lecce. Cioè, ragazzi, vi rendete conto di chi combatte in Serie A? Cioè, una squadra come il Palermo, di Serie B, con tutto il rispetto per il Palermo, è una squadra a cui voglio bene, ma una squadra di Serie B, che dà il doppio a un calciatore, di una squadra di Serie A, immaginate voi contro chi combattiamo noi, capite quanto valgono le nostre salvezze. Però, ragazzi, perdere Blen davvero, mi dispiace, mi dispiace perché Blen è quel giocatore simbolo, no? Cioè, quello che ti mette, diciamo, il baschilotto del centrocampo, quello che ci mette la grinta, quello che ci mette i polmoni, quello che ci mette il combattimento, no, in campo. E io vederlo andare via in Serie B, voi, in Serie B, un calciatore che davvero è forte, è forte. Vabbè, ragazzi, anche Malea, per esempio, io Malea, me lo terrei, perché comunque Malea oggi ha fatto bene, ha fatto bene, anzi, il secondo contro l'ha propiziato lui. Non lo so, ragazzi, non lo so, io comunque sono, cioè, io penso a Kristovic e rido, e rido, guardate, basta solo che penso a Kristovic e rido. Così, mi metto a rido, troppo forte, troppo forte, troppo forte, e Kristovic ci deve rimanere la grecia.